Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. Il figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in Lui vi fu il sì. Infatti tutte le promesse di Dio in Lui sono sì. Per questo, attraverso di Lui, sale a Dio il nostro Amen per la Sua gloria. È Dio stesso che ci conferma, insieme a voi, in Cristo, e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Risplenda su di noi la luce del tuo volto, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Risplenda su di noi la luce del tuo volto, Signore. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi. Volgiti a me e abbi pietà, con il giudizio che riservi a chi ama il tuo nome. Risplenda su di noi la luce del tuo volto, Signore. Rendi saldi i miei passi, secondo la tua promessa, e non permettere che mi domini alcun male. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Risplenda su di noi la luce del tuo volto, Signore. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli, Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà assalato? A non altro serve che ad essere gettato via, il calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosto una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il morgio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Grazie a tutti.